Turbo Angela sul vulcano prima, praticamente alla quarta, quarta, quinta, va bene, guardi. Diciamo, ci troviamo sul vulcano Icla, alle nostre spalle, abbiamo con noi Turbo Angela, geologo, geofisico, geotermico, geostazionario, geometra, esatto, anche geometra, e ci narrerà un po' le vicende di questo vulcano, siamo arrivati qui con i nostri mezzi, con le nostre vespe, nonostante anche fuoristrada qui facciano fatica ad arrivare, ma noi, essendo decoccio, ce l'abbiamo fatta. Sì, non avendo proprio tutto sale nella zucca, no, ne abbiamo spasso un po'. Esatto, spiega velocemente questo vulcano, guardi in camera perché se no non si sente niente. Questo vulcano è uno dei, diciamo, dei vulcani più giovani dell'Islanda, è uno dei più attivi, alto 1491 metri, alto 1491 metri, e continua erupione, e stranamente non ci siamo arrivati. Non è ancora erupato? Non è ancora erupato, e l'acqua è andata via. Esatto, e quindi un'innumerevole pioggia di lapilli potrebbe colpirci in qualunque momento. Come potete vedere, qui la terra è formata da pietra pomice, un po', un po', un po', piacere, è utile, mettere su, un'espa, anche la dottura, è piacevole avere, tanto è leggera, puoi raccogliarne abba di late, e anche tirarla addosso non fa male. Allora, ci si possono costruire montagne, strade, la vista per le miglie, e noi l'abbiamo percorsa alla montagna.